Puoi raccontarmi i tuoi ricordi più lontani sul razzismo? Prendi la mazza e colpisci me. No, non voglio. Continueremo la nostra Freedom Ride da Birmingham fino a Montgomery. E da lì contiamo... Sparite! Nella sommossa ho camminato attraverso la folla, disarmato. Spiegami che cosa vuoi dimostrare. Forse posso andare in giro per i campus e parlare agli studenti della vostra causa. Figliolo, forse non ti rendi conto che stai camminando in un vero e proprio campo minato. Guardando quel ragazzo desiderai che invece avessero colpito me. Lo sai che questo movimento va oltre il diritto di voto. Vogliamo cambiare il mondo. Vuoi mettere a repentaglio la tua vita in nome di un principio? Non è quello che fanno loro. E adesso che succederà? Continueremo. Vedrai che prima o poi capiterà qualcosa di terribile. E allora dovrai scegliere da che parte schierarti. Non scegliere, è una scelta. La superiorità morale è il nostro credo. Radio Italia, radio ufficiale.